Una scena alla Shining, due coniugi che si chiudono in camera, fuori c'è Laguzzino e il loro figlio che tenta di ucciderli con un coltello. Riesce a sfondare la porta e si avventa sul padre. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine può scongiurare la tragedia. Un quartiere tranquillo, una billetta per bene, eppure è proprio qui che questa notte a luna e mezza un ragazzo ha cercato di uccidere i genitori. E' accaduto ad Ascoli. A luna il 23enne, che presta servizio civile presso l'Associazione Misericordia, afferra un coltello da cucina e si avventa contro i genitori, che scappano e si baricano in camera da letto. Una volta sfondata la porta, il 23enne colpisce violentemente il padre. All'addome l'arrivo della polizia impedisce al giovane di sperrare il pendente fatale. A originare il raptus, secondo gli inquirenti, ci sarebbero stati problemi sentimentali e familiari che da tempo affliggevano il ragazzo. Ragazzo che ora è in carcere, arrestato per tentato omicidio. La madre ha riportato delle contusioni, mentre il padre, dopo un'operazione, si trova ora in prognosi riservata.